castello fiabesco ma insomma dov'è finita? insomma dove ti sei cacciata? un ukulele? no? una tigliera no? su vieni fuori dai! uffa uffa vediamo un po' questa non è? questa non è? ma dov'è? federica ma insomma ma quanto ti si può aspettare? uffa e mi dispiace che non posso venire io al cinema finché non la trovo ciao io mi chiamo sidney per caso sai che cosa sta cercando federica? federica che cosa stai cercando? e ciao sidney non riesco a trovare la mia chiave non è che forse l'hai dimenticata nella macchina di ken? oh giusto dove sei? ah federica ti posso garantire che non ho trovato nessuna chiave nella mia macchina ah no? e allora dov'è finita? basta federica siediti nella macchina e andiamo su assolutamente no io in queste condizioni non esco prima devo prendere delle cose indispensabili dal mio baule ah ecco che cosa apre la chiave questo baule è qui ma secondo ti federica che ci tiene in questo baule che non può uscire senza prima aprirlo? non si apre proprio senza chiave ma lasciala perdere la chiave adesso lo scasso questo coso e ce ne andiamo maledetto baule ti aprirai che tu lo voglia o no? dammi ci provo io eccolo 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 no non ci riesco ma secondo te che ci tiene di così segreto in quel baule? tu non lo puoi capire e va bene io ho un altro sistema non c'è baule che possa resistere al mio bulldozer oh 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 Ken ma magari c'è un'altra soluzione non ti sembra di stare un po' esagerando? no Sydney è già una questione d'onore oh oh questo serve ad alzare questo ad abbassare e in avanti andiamo su su alzati oh guarda Ken ce l'ha quasi fatta c'è qualcosa sotto il baule eh? e quello che cos'è? bu che cosa sarà? è la mia chiave quella è la mia chiave l'avete trovata finalmente viva oh che sollievo oh si è aperto e che cosa c'è dentro? qui ci sono tutti i miei trucchi eh? e senza questi tu non puoi venire con me al cinema? mi voglio fare bella per te ma tu sei bella anche così e va bene Federica ti aiuto a farti bella prima prima spazzoliamo i capelli mettiamo un filo di rossetto wow e mettiamo anche un po' di ombretto sugli occhi e due e poi un po' di profumo ecco fatto sei pronta grazie Sidney adesso posso andare al cinema con Ken oh oh wow Federica sei uno schianto e come sei profumata hai visto? abbiamo fatto proprio bene a trovare la chiave del mio baule ciao Sidney ciao Sidney ciao ragazzi buon cinema e tu a casa ce l'hai un baule segreto in cui nascondi delle cose molto importanti per te? e che cosa ci nascondi? ciao ciao ciao